E' stato trasferito questa mattina a Napoli, al secondo policlinico, il corpo di Antonella di Massa, la 51enne di casa Micciolaterme, scomparsa il 17 febbraio a Succhivo, dove è stata poi ritrovata senza vita ieri intorno alle 13. Dai primi accertamenti non sono emersi degli indizi particolarmente utili ai carabinieri, l'unico corpo che sta coordinando le operazioni. A ritrovare Antonella era stata la troupe della trasmissione Chi l'ha visto, in un punto piuttosto vicino al margine della stradina via Caravana, all'interno di una proprietà privata. Poi l'arrivo degli uomini del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, che hanno raccolto e isolato ulteriori indizi e prove che potranno essere utili a chiarire tutti gli aspetti che ancora rendono torbido il quadro. Innanzitutto l'ora del decesso, che sembra collocarsi nelle ultime 24 ore, come sembra sia apparso piuttosto chiaro già dalle prime occhiate alla salma. Il corpo si trovava sotto un albero steso in posizione supina, con i piedi e le gambe all'interno di un sacco di plastica, come a volessi proteggere dall'umidità, mentre la busta che portava con sé la donna nelle immagini diventate ormai famose, che l'avevano ripresa all'interno del parcheggio di Succhivo, si trovava sotto il bacino. Nessuna ferita apparente, tranne qualche piccolo graffio sul viso, probabilmente dovuto ai giorni che ha passato nascosta. Un'ematoma piuttosto grande su un fianco, dovuto probabilmente ad una caduta, ma comunque non compatibile con alcuna causa di morte. A coordinare le indagini per la procura di Napoli, il sostituto procuratore Gloria Sanseverino. I primi dati importanti dovranno arrivare proprio dall'esame autoptico, anche se ci sarà bisogno di chiarire se e cosa non abbia funzionato nelle operazioni di ricerca.